No, ormai il lavoro è intenso, gli incontri sono tanti, vediamo, è chiaro che i nodi li sapete, sono quelli relativi alla sovraintendenza, sono quelli relativi... Non ci sono novità su un lavoro? No, io vedo un lavoro positivo che sta andando avanti con sempre più chiarezza, poi c'è il lavoro delle agenzie delle entrate, insomma, con tutto quello che abbiamo vissuto non mi azzardo più a dirmi positivo, ottimista, sono felice però del lavoro, si sta facendo da entrambe le parti.